Salve a tutti e bentornati su Kirby's Return to Drainland Deluxe. Nello scorso episodio abbiamo iniziato il parco Magolandia, ok, c'è lì di fianco a noi, l'abbiamo visto. E in questo episodio inizieremo il mondo 2, deserto d'Attaro. Comincia... ah, intanto vediamo quanti rivici sono. Uno, due, tre, quattro, sono sempre cinque. Ok, sì, ha senso. Allora oggi faremo i primi tre livelli come al solito e poi domani faremo livello 4 e i boss. Tanto le maschili si possono togliere con la levetta analogica premendo, mi sembra se è il pulsante e la levetta analogica a destra. Ovviamente non lo tengo, prendendo l'azio, l'azio non fussa. E così, addio. Ho anche scoperto, perché mi pare che si sposa molto bene. E effettivamente, rende abbastanza utile questa levetta, anche se non è un'altra parte qui. Allora, un... Qui invece... Guardate che bene, si possono costruire i testini di sabbia, farli cadere sempre tutto. E' seconda. E si possono anche fuggare... Possono anche fuggare i nemici. Non ho troppo nello fare, non ho troppo nello fare adesso. Perfetto. Gli scarpi. E ora entriamo nella porta. Per cui però ci si ripete a frusta, se mi sbaglio. Sì. E no, non lo so perché... Non lo so perché ho già giocato, ma... Cioè, lo so già perché... Ho fatto... Perché questo ce l'hanno inteso. Scusate, non riesco a parlare. E' sempre... Soluta. La solitazione... Dovrei riprendere questa adesso per me. Avanti, ricordo, guarda, non c'era qualcosa per cui mi seguo questa. E' quella. Ok, biglietto per... Parco, ma volantia! Ok, adesso riprendiamo, sì. Grazie mille. Posso farlo? No, ok, peccato. Si può anche palleggiare per la qualsiasi. Ok. Allora... Aspetta, non c'è nessun sabbio. Perfetto. E... Bolleggia. Quanto è bene, magari, questa vita? Allora... Ah... Lavoro, non c'era niente qui. Ok. Non vorrei preoccuparmi. Ce ne sono solo tre qua, eh. Quindi... Un... Un... Fuoco. Grazie. Mille. E... E' meglio sabbia, in effetti, però... Eh... Visto che... Ovviamente lo userò un bel po' oggi, e mi riesco a variare un pochino. Ok, scopendo. Ehm... Ah, ok, mi servi anche. Bene. Ehm... Cannone, vai. Spero che mi servissi. Aspetta, funziona così? Sì, 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 ok, funziona così, come adesso, più di attacchiata. E... Sono tutti giochi tipi... Oh, non salvi. Tutto qui, davvero? Ok. Non mi aspettavo così semplice. No, non posso far allungiarti. Allora, mi dispiace... Ah, qui c'è Spino. Allora, c'è lo Spino. Grazie per il... Ah, via. Oh, che è successo? Ma cosa... Cosa... Oh... Ok... Va bene, non lo sapevo. In pratica stavo ruotando la levetta analogica a sinistra e... Mi ha buttato fuori tutti gli spiritori. Cosa vuol dire? Ok, raggio. Grazie. Lo spero che mi servisse. Questo pomido. Quindi, questo era un tappo. Io sono... Quindi, dovrei poter eliminarmela. Lei, quello dovevo dargli la scopa, ricordo. Oh no, forse non lo ha spettato. No, aspetta non lo ha. Ah, c'è... Sfira... Mi pare alla fine, però forse... Sfira... Ok, allora niente megabild. Ok, allora niente megabild. Cosa stavo facendo? Allora, non ho idea. Sono solo che adesso ho questo. E che qualcuno sa che questo animale mi è successo a prendere così. Ah, questa qua c'è qualcosa. No, ok, non lo ho atti. Ah, vero, mi ero identicato. Mi poterlo lasciar fuori. Ah? E' tutto solo. Ah, ok, non l'ho visto. General l'ho visto, non l'ho visto. Letta, letta, super. Un po' di quello che mi si chiama, lo so. Ok. Ok. Ok, non c'è nessun intervento. E' un po' di quello che si chiama, lo so. Eh, però... Non c'è nessun intervento. Un po' di quello che si chiama. Che non c'è nessuno. Cos'è successo? No, ouch. Grazie, ho ripropiato quasi dalla vita, non devo sconfiggere, ma è un cibo, grazie, anche se ho già la vita piena, però, vabbè, ormai non fa, diciamo. Parasole D, non ho ancora, non ho ancora la perdita, parasole D, ok, è bellissimo, eh, posso fare, cosa, perché esiste questa cosa? Ok, questa è la perdita lenta, eterna, parasole D, ok, no, non cadere, non cadere, Kirby, ok, non andare a colparasole D adesso, ah, no, aspettate, ci posso, ma se ne ho colparasole D. Allora, lo spaccano. Bonkers, ok, mi dà l'abilità a martello. Ouch. Ci sono, per sposo. Fatemi vedere. Salto parasole, tuffo parasole, lancio parasole. Oh, ok. Ah, ok. Ouch. Salto parasole, è una pessima, una pessima idea. Però, almeno, godine. Ok, è molto, molto potente. Allora, mi ho dato la sfida. Ah... 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 E mi serviva il martello, perfetto. Tutte sfere di livello 2-1. Ah... Ah... Non ho fatto niente di chiacchiere. Ah... Ah, aspettate, qui c'è qui. Oh, nice. Oh, nice. Salta. Ah... Ah, per pochissimo non ho preso niente. Ah... Peccato, va bene. Passiamo al livello 2. Ah... Che immagino che sia il nuovo... Sì. Questo porto. Visto che si trova letteralmente sopra uno spettacola qua. Le 15 sfere di energia che hai raccolto hanno riattivato la porta della stanza delle abilità 1. Ok. Ah, è come quella della demo dove si possono provare variabilità. Quindi c'è la stanza che racchiude varie abilità. Cioè ci sono più stanze che racchiudono varie abilità... Ordinate. Ok. Ah... Sì, avevo ragione, è un nosi. Non è molto inutile perché si non dà vita. Eh... L'ho testato... Nella demo e... No, non dà niente vita. Ok, adesso vieni a prendere... Ah... Adesso ho preso la maschera perché bella. Ok, ouch. Ah, intanto ho entrato il pesco, perché ho dovuto fare questo. Adesso è una cosa molto... eh... basiare nel nostro pesco. Adesso si trova scoperta. Ok. E' anche parecchio intimo perché si possono totalmente sconfiggere gli nemici senza battere ciglio. E' una cosa stupenda. Va bene. Domanda, che senso ha che un nemico che ha il potere dell'acqua venga sconfitto senza acqua? Tecnicamente nessuno, però... Eh... Un gioco non è molto meglio, non so se. Anzi, non deve essere... Ma, per essere più corretti, diciamo, è un videogioco più meglio, non so se. Ok... Ok... Andavanti. Non dovrebbe esserci... No, non mi colgo nessuna sfera qui. Ok... Rocky! Vieni su qua. Ok... Adesso... Uh... Bella questa! Ehm... Cosa... Ok, non lo posso fare niente. Quanto è bella la dita, peta. Ciao, è bellissimo. Non so perchè non l'avevo preso il gioco che qui ci sarà, ma... Una sfida in cui devo fare attenzione ai diventare non roccia. Come bello! Ai vari amici di tutti, sono Rick... Ehm... 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 Oh! Guardate un po' qualcosa c'è! Ok, senza segreta, allora entriamo. Mmm... Ok, immagino dovrei dover fare in freddo a questo punto. Corri! Sì... Ah, eh... Aspettate, posso scendere da qui. Giusto? No. Se riuscissi ne entrassi... Funzionerebbe. Dimmi che funziona, ti prego. Ok, si funziona, perfetto. Non avevo voglia di entrare in questo livello. Uh! No, ho buttato via proprio la statua... Ho buttato via proprio la statua più importante. Un secondo. Uh! Allora è bello! Ah... No, vabbè, adesso è bellissimo. Ah, posso proprio ruotarli! Vabbè, allora... Che ingrede... Vabbè, questa devo mostrare la tutta. Scusatemi se... Perdo tempo, però... Questa è stata davvero davvero stupenda. Specialmente... Meta Knight, che è il personaggio migliore della saga di Chibi. Locco... Loccia classica. Loccio... 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 Ok, non lo trovo. Ok, basta. si mette a perdere il tempo perché siamo già 14 minuti e non ho ancora finito neanche l'ho ancora finito ok, non dovrei, no infatti io prendo un'altra parte dagli, ah, dagli lospini ok ah vero, non posso sentire l'osso di lì, insomma era qua, le abilità del kill bin, insomma in effetti ha più senso rispetto a Mario perché Mario poi non c'è la pari di fuoco in acqua ma fa niente allora ah, una cosa va bene, se no mi salva il gatto perché c'è una porta rossa qui c'è qualcosa che non quadra va bene, entriamo oh ok, ah facciamo così potrei fare una cosa al quando mi salva ovvero fare così e pezzarli qua grazie per la vita extra e adesso dovrei darmi un'altra abilità, al viso c'è un'altra abilità roccia passaggiarti passaggiarti no, non passaggiarti anzichio passaggiarti ok, va bene adesso acqua adesso non è tornato perfetto ah vero, io non ho un'altra abilità su qui che era anche visibile ok ah, c'è un'altra abilità ok, potrei ripirti magari, per favore ok, altra porta rossa wow non ho finito in più la stessa volta uh ah, vediamo anche questa sì, è che è perdita però non credo che altra abilità no, ok, avrebbe solamente liberato un euro però non sarebbe non sarebbe dovuto essere un grosso più dire o almeno credo vabbè in ogni caso non è più un problema che devo correre ho preso una sfera quindi se qua non c'è niente posso andare avanti perfetto ok stella o urgo ok non importa allora non ho fatto che ho fatto ok non funziona siete seguiti un rumore durante la cazzina ero io che provavo ok io ero provata di una maschera di una cazzina però non si può fare quindi va bene ok aspetta non è che ciò cosa è no no non dovrebbe ottenimento cosa è non posso non posso fare nulla allora cosa devo fare devo solo scappare adesso si bisogna anche fare attenzione Focco è il logo a descritto Ah, per favore Fungi Oh Omega Razzino Spera magica Eeeh Wow Wow Mi sembra un po' esagerato Maaa Non dico di no Non dico di no, dicevo Strecco di risolvere se sono Spera pazienza di scendere Spera pazienza di scendere Spera pazienza di scendere Fino al fondo Questa è una magica Ouch Eeeh Sembra di no Però almeno una monetà Cos'è questo? Ma quello è intubbicato Pensavo fosse un passaggio semplice Cosa? Eeeh Almeno dicevo ho preso una Eeeh Ok Salve Eeeh Ok Se vogliamo anche di più pazienza di scendere Eeeh Eeeh Ah Ok, ehm Mi sono detto Pensavo fosse un puzzle Un puzzle Un nuovo biglietto Grazie a me Ok Posso prendere la sella Grazie Che è proprio la centesimo Quindi si vede con la vita extra Eeeh Non posso Eeeh 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 Allora Prendo queste stelle Minera Ok Scusate Mi sono venuti Di nuovo A insurbarli In camera Ok Grazie Questa è una Un casco di banane Sembrava un casco Un casco di banane Però non so Ok 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 Strardo ma E' anche sassato Che la stella Sia lo intero qua Ok e se continuano a entrare in camera bi perso qua Bo Ok Ora Sulle dei pessimi scelte Eeeh Eeeh ho usato solo con il mio suono questo sacco è una prossima scelta no 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 ok, potete ne parare qui ma non mi senti un po' che è il deck a me Non posso colpire con me Ouch Ok Non posso colpire con me Va bene Tutte le sfere di livello 2-2 Ok Pongolo maxi E buco bianco O stella Buco bianco Buco stella bianca Non so come schermo Ok E Fin Salta Mi sa che mi avevo sbagliato No ok questo era perfetto Questo era davvero un lancio perfetto Ok No 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 che sono sceso, sennò non l'avevo vista. Ah, bravo, ecco. Va bene, allora ritorniamo su. Adesso. Ok, va bene. Non posso proprio scendere qui. Poi c'è un sera come qua. Ok, va bene. Ah, c'è l'unica scelta. Shard Knight. Adesso mi prendo la spada perché l'ho prendo dal primo episodio, forse. Nel secondo episodio l'ho preso. Probabile però non lo so. Uh, salve qui, perché sei realmente la versione dei Voodoo. Ah, aspetta, grazie. Ok. E se l'ho usato. Questo è un grosso sciazzo. Uh, ok, devo prendere un'attività, non mi... C'è un'attività. Ok, avevamo visto anche un'attività. E questo è un'attività. un'attività. Va bene, allora posso prendermelo pure raffinata. E se l'ho ottenuta. Mi sa che non lo scopriva mai se mi metti in ordine oppure in base. quelli che troviamo. Spero anche di non lo scopriva. Ah, ma sono proprio in montagna. Ok. Continua a non essere un'attività raffinata, però... Tanto... Forse era un'attività. Il che vi ho traffinata con l'era parecchio. Era molto, molto, molto volutile. Perché non potevi volare... No, aspetta, 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 aspetta. Adesso vuoi lui. Super tappa. Ehm... Wow. Se non sbaglio... Questa mitana dava anche... che si chiamava? No, non mi posso essere dimenticato anche solo me. Eh, l'occhio gigante... Non ci credo sia dimenticato anche solo me. Ok. Per fortuna non sono abbiata fronti. Allora, non mi sono andata. Ma sono riuscito a prenderlo. Vi, per quanto... Come si viene con i tropi? Eh, scusca. Un'aspera, vai. Ok, per quanto. Un'attività. Ehm... Andiamo alla porta. Focco da prima. Un'attività. Questa. No, tanto. si apre ah ok è un coso che che esiste e funziona è un'idea che stiamo con il boss ready funziona oh wow si che funziona funziona prezzo ok mi sarebbe un sacco che si vede ah hai visto notte d'armi ouch raggio e andiamo su questo posso riparci anche così si ma immagino di perci ripare domanda in questo gioco non scade ma il rumore cioè scade nel senso non non so se anche mai tutti ok ah sapete cosa mi ricorda ora chi ci penso oddio in sfera magica un'abilità che c'era in Kirby Planet Robobot che è un gioco forse migliori di Kirby quindi forse avrebbe potuto se avessero fatto un anche se anche questo gioco è uno scherzo anche questo incredibilmente l'amore tutte le sfide di livello 2-3 ottenute e andiamo ho sbagliato no 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 ok vai e finiamo grazie e adesso davvero finiamo salta salta ok per un pelo però ho uno quindi va benissimo ok quindi la prossima parte di Kirby si è tutto di Manderlux completeremo il livello 4 e il boss e andremo anche nel posso prendere ah facciamo così cambiamo la scheragia che ci siamo e wispiwuz pure taranza e aspettate da rocce per nessun motivo ma lui dicevo andremo anche nella lore per fare la missione della vita sabbia quindi si alla prossima e e che